Ciao a tutti con questo video vorrei mostrarvi come ho configurato i comandi a pannello della mia Arturia Keylab 61 per gestire attraverso Camelot Pro il nostro mixer DMX e quindi le luci del nostro spettacolo. Ovviamente le luci sono state configurate preventivamente sul mixer. Il mixer in questione è un ADJ DMX Operator 384 collegato all'Hub che poi va all'iPad o al Mac con su installato il Camelot Pro attraverso questo Roland UM1. Per prima cosa occorre configurare i comandi a pannello dell'Arturia Keylab attraverso il software Control MIDI Center di Arturia. Praticamente ogni comando della Keylab è configurabile a piacimento. Io ho configurato i pad per gestire i controlli DMX e gli slider per gestire l'XR18 ma per la gestione dell'XR18 vi rimando a un video precedente che ho già fatto. Per quanto riguarda i pad innanzitutto gli ho dato per ogni pad un colore relativo al colore che devono gestire per quanto riguarda le luci e poi a me interessa inviare messaggi note perché il mio mixer DMX riceve i cambi MIDI delle scene attraverso messaggi note. Sul canale 2 perché ho configurato il mixer come canale 2 lasciandomi libero il canale 1 per gestire attraverso la Keylab eventuali software di instrument e poi dandogli la nota relativa al colore che mi interessa. Ovviamente ogni mixer ha le sue specifiche, ogni mixer DMX MIDI e quindi bisogna fare riferimento sempre al MIDI chart dell'hardware che si va a gestire. Per quanto riguarda i Control Change ho utilizzato dei Control Change non assegnati di default anche lì per non andare a sovrapporre i messaggi che la pressione del pad può inviare con altri messaggi già preassegnati. Una volta configurata la Keylab ci spostiamo su Camelot Pro dove ho creato un layer con in ingresso la Keylab e poi un Advanced MIDI device semplicissimo dove il Send2 va all'UM1 collegato al mixer e i messaggi vengono veicolati al canale 2, al canale MIDI 2. Non occorre sostanzialmente fare altro. La metto in Setlist Rack perché ovviamente mi occorre che questa configurazione sia presente in tutta la Setlist. Come già detto in precedenza è ovvio che tutte le configurazioni sul mixer e quindi le luci come le vogliamo configurare noi devono essere fatte preventivamente sul mixer. E qui vedete un esempio di come ho impostato io il nostro mixer DMAX. Con le varie scene. Ecco qua che vi mostro il risultato finale. Se doveste vedere un leggero asincrono tra la pressione del pad e l'accensione delle luci è un problema di montaggio video ma vi assicuro che è praticamente immediato. Una cosa molto interessante è che possiamo automatizzare questi cambi luce attraverso la timeline. Ho creato ad esempio un layer chiamato blue dove ci ho messo un advanced MIDI program con un messaggio di note on che mi interessa inviare e un layer connector per far sì che questo messaggio di note on arrivi direttamente al layer DMX che ho creato in precedenza e che tengo in Setlist Rack. Questo che vuol dire che inserendo questo messaggio in una determinata scena della timeline al cambio scena avverrà il cambio delle luci in automatico. Adesso vi mostro il funzionamento e con questo vi saluto e vi ringrazio. Ciao a tutti! Grazie a tutti!